L'Italia è l'unico luogo al mondo con la più ricca varietà di suoni, i suoi dialetti. Penso che debbano essere assolutamente preservati, ma in alcune situazioni è necessario eliminarli o ammorbidirli per rendere comprensibile a tutti quello che si sta dicendo. La forza della parlata neutra è questa, essere comprensibile a tutti. La forza del dialetto invece è l'identità. Due carichi da 90 sui piatti della nostra bilancia. Oggi parliamo di cadenza veneta e di come fare a toglierla. Cominciamo col dialetto veneto di Cavarzari in provincia di Chioggia. Questo video è super lungo quindi se ti interessano delle cose specifiche nella descrizione trovi i capitoli. Sigla! Se non abbiamo ancora avuto modo di conoscerci, io sono Cristiana Raggi, Public Speaking Coach e attrice. Questo è il mio canale, qui parliamo di fonetica, dizione, vocalità, public speaking, insomma la comunicazione a 360 gradi, dalle tecniche alle strategie per comunicare meglio agli altri chi siamo, cosa vogliamo e cosa sappiamo fare. In questa playlist nel 2019 ho pubblicato un video intitolato Togliere la cadenza dialettale, il link è qui. Dopo questo video ho ricevuto molte richieste di approfondimento. Di solito con un video è difficile scendere nei dettagli, anche perché credo che, a parte il lavoro tecnico che si può fare, che può essere anche generale, la questione, soprattutto quella legata ai dialetti, sia sempre molto personale. Inoltre va considerato anche il fatto che al giorno d'oggi molte persone parlano un dialetto abbastardito dalla globalizzazione che stiamo vivendo. Ad ogni modo ho deciso di rispondere alle vostre domande e di fare dei video dedicati alle cadenze dialettali. Per farlo sono scesa in strada, ho chiesto alle persone che passavano di lì, se volevano mettersi di fronte alla telecamera, per parlare in dialetto. Quindi cominciamo oggi questa avventura insieme col dialetto veneto di Cavarzare in provincia di Chioggia. Via alla nostra prima intervista! È vicino a Chioggia, è Cavarzare, un paesino di campagna. Sì, bensì, da 50 anni. Cosa vuoto che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Te tiro drì una savata. Che vuol dire ti tiro dietro una ciabatta? Beh, lo parlo sempre a casa mia, ma poi quando sono tipo qua a Bologna, logicamente si parla italiano perché non tutti capiscono il dialetto, ognuno ha il suo dialetto nella propria regione, provincia, non so, perché io sono la provincia di Venezia e parliamo veneziano. Gli altri sono la provincia di Bassano, Vicenza, parliamo vicentino. Ognuno ha il suo dialetto, è bello perché siamo Italia. Per capire come far a togliere un dialetto dobbiamo per forza di cose prima di tutto capirne le caratteristiche. Per cambiare qualcosa devo sapere cosa devo cambiare. Con dialetti come il Veneto, che sono delle vere e proprie lingue, è abbastanza facile trovare molte informazioni anche online. Quindi ho fatto una piccola ricerca ed ecco qui il risultato. Vediamolo insieme. La prima pagina che ho trovato interessante è stata su Wikipedia, WikiWand, c'è il dialetto Veneto Lagunare, c'è una pagina proprio dedicata dove vedete un po' tutte le indicazioni grammaticali. Ma in fondo pagina trovo anche i vari altri dialetti veneti che sono presenti nella regione. Questo è il dialetto Veneto occidentale. Vedete che è scritto in dialetto Veneto proprio. La pagina è scritta in Veneto e quindi non in italiano. Questo invece è il centrale settentrionale. Poi vado avanti e vedo che c'è quello centrale. Vedete che in ogni pagina ho le finali, come devono essere pronunciate, eccetera eccetera. Poi c'è il dialetto Veneto settentrionale. Ci sono varie caratteristiche anche qui segnalate, sempre sulle finali, sempre sulle varie parti grammaticali. Vedete anche che c'è la definizione dei vari tempi verbali del Veneto, l'indicativo presente, l'imperfetto, il futuro. Qui è proprio quasi come se fosse una lingua straniera, un'altra lingua e vengono indicate tutte le caratteristiche di questa lingua. La coniugazione interrogativa, il verbo avere, poi la coniugazione interrogativa del verbo avere, il verbo andare, il verbo fare e il verbo dire potere, eccetera eccetera, con tutte quante le coniugazioni. Questi esempi vengono trovati proprio nelle pagine scritte in dialetto Veneto. Ritornando, io posso andare anche a vedere sotto, oltre al centrale settentrionale, vedo anche che c'è la definizione delle varie zone in relazione alle città. E poi approfondisco invece sulla laguna Veneta. Vengono definite le varie isole, sempre tutto scritto in Veneto e i vari collegamenti da questa pagina a diverse altre pagine. Quindi è proprio un spazio dedicato dentro a Wikipedia, dedicato completamente al dialetto Veneto e a tutte le sue caratteristiche nelle varie zone. Vedo anche che è possibile leggere questa cosa anche in altri dialetti. L'altro è il Lombardo, l'altro dialetto disponibile. Quindi questa pagina qui è scritta completamente in Lombardo. Vedete qui c'è Chioggia, che è proprio la città che interessa a noi. E in questa pagina qui noi troviamo altre informazioni ancora. Quindi fino adesso abbiamo visto il dialetto Veneto e il dialetto Lombardo e in ogni pagina io trovo nuove informazioni, quindi potrebbe avere senso leggerle in tutte le lingue. Poi vado a vedere invece in italiano e qui trovo altre informazioni ancora. Quindi è almeno così di primo approccio, è sicuramente qualcosa di molto approfondito. Qui vedo anche la transliterazione, nella grafia. Quindi posso trovare proprio la grafia veneta unitaria, che è una proposta di transliterazione. E in questa pagina trovo l'esempio innanzitutto della transliterazione tradizionale, come vedete. E quindi c'è la pronuncia partendo proprio dalle varie consonanti e scendendo, vedo tutte, la N, la L, la R, la S. Vedete la S pronunciata sempre sorda, molto simile alla WS italiana, la V, la X, la Z. È chiaro che queste indicazioni qui ci danno anche delle indicazioni di base per correggere questa cadenza, perché se io le paragono alla parlata neutra posso capire su che cosa dovrò andare a lavorare. Questa appunto è la transliterazione tradizionale e ci sono i vari riferimenti bibliografici. E poi c'è la transliterazione secondo la proposta, come abbiamo appena vista della grafia veneta unitaria. Scendendo trovo altre delineazioni, quindi delle varie consonanti. E qui ci sono, in fondo alla pagina, ci sono proprio delle specifiche assolutamente caratteristiche del dialetto cittadino. Sono anche alcune varianti di pronuncia che non si riscontrano negli altri dialetti veneti e in parte nemmeno nelle varianti parlate dalle altre isole della laguna. Quindi io qui posso scendere ancora di più nei dettagli. Questa pagina ci dà molte informazioni, sia in relazione al dialetto, se lo vogliamo, che so, imparare, ma anche in relazione al dialetto, se lo vogliamo correggere, quindi arrivare a una parlata neutra. Anche quando vado in Spagna inserisco anche un po' di dialetto veneto, hai capito? Un pochettino. Non mas. Non troppo, hai capito? Anche in dialetto veneto, il Chioggiotto, dove abito io, e poi dire tuo mare, che vuol dire tipo tua madre in spagnolo. Sì, si sta perdendo il dialetto, hai capito? Perché logicamente le generazioni vanno avanti e perdono, parlano tutti italiani, invece la mia generazione parlava sempre anche il dialetto a scuola, hai capito? Vai a maniare, va a torre a bevere, tutte quelle cose lì. Sì, perché il dialetto è una cosa, una cultura poi, poi nel Veneto, guai se non parli il dialetto, una cultura, mi dispiace sì un po', perché dopo diventiamo tutti uguali. Insegnarlo ancora alle scuole, specialmente elementare, non è una cosa stupida, è sempre una cultura da tenere in tutta la nostra Italia, ognuno ha il suo dialetto, ogni provincia ha il suo dialetto, hai capito? E tipo anche nel sud, nel nord, nel centro Italia sarebbe una cosa bella da tenere, anche per i ragazzi, per sapere tutte le generazioni che sono passate prima. Se io vedo ancora adesso quelli più anziani di me, cioè parlo in dialetto, se come amico adesso, se io parlo a un ragazzino di 10 anni in dialetto, mi dico, cioè vecchia, vai via, è così. A proposito, sono curiosa di leggere nei vostri commenti qual è la vostra frase veneta del cuore, magari come avete imparato il dialetto, se ve l'ha insegnato qualcuno, in casa, fuori, se vi piace parlare in dialetto o magari no. Proseguendo, ho cercato una rappresentanza nel mondo culturale, proprio di Chioggia, ho trovato questo gruppo che fa del rock made in Chioggia, come la nostra intervistata. La band si chiama John C.A. Day, che ha giocato col dialetto a partire dal suo nome, di fatto la traduzione inglese sarebbe John vede un giorno, che oggettivamente non significa niente, ma se si legge lo stesso nome nel dialetto di Chioggia, diventa John C.A. Day, John C.A. Day, John C.A. Day, C.A. Day, C.A. Day, C.A. Day, scusate la mia pronuncia chioggiotti e chioggiotte. Comunque, il nome è ispirato al fatto che una volta ci si sposava tra parenti, nelle famiglie, soprattutto in campagna, e per questo motivo a volte nascevano bambini deformi, con sei dita, appunto, come il nome John C.A. Day, C.A. Day, C.A. Day, John C.A. Day. Bene, questo gruppo va molto fiero del suo dialetto e lo usa nei suoi testi e ho visto anche che si sono impegnati nel doppiaggio in dialetto di alcuni film che non potete non conoscere. Questo link vi porta al caso China, no China, se volete sentire un po' di dialetto di chioggia, let's go. E mentre facevo queste ricerche ho ricordato una pubblicità che vedi diverso tempo fa, il dialetto in questo caso non è specifico di chioggia, ma è comunque molto bello lo stesso, quindi dopo ricerche incessanti di ore e ore e ore e ore sono riuscita a trovare questo video, quindi eccolo qui. Ma veniamo ora al togliere la cadenza veneta, quindi vediamo due esercizi per fare questa cosa qui. Partiamo dal presupposto che per fare questo discorso devo pensare di correggere la parlata italiana in cadenza veneta e ovviamente non la parlata veneta che come abbiamo visto segue le sue regole che ristrutturano completamente la frase anche da un punto di vista grammaticale. Vedremo insieme adesso due esercizi che possono aiutarvi, chiaramente possono essere un indizio per fare un lavoro a casa anche da soli, la struttura intonativa e la gestione delle doppie. Partiamo con la struttura intonativa. Allora, facciamo una premessa. Noi sappiamo che una parola è dotata di sillabe e che esiste una distinzione fra queste. Esiste una sillaba tonica che è quella su cui cade l'accento, l'unica, tranne i casi speciali ma nella quasi totalità ce n'è solo una di tonica, mentre tutte le altre sillabe vengono definite atone, quindi ci sono le sillabe toniche una e atone tutte le altre. Prendiamo ad esempio la parola germoglio che noi sappiamo essere divisa in tre sillabe ger-mo-lio. Nel pronunciare questa parola la sillaba su cui cade l'accento è mo, che nel nostro caso la o, la vocale tonica è la o ed è acuta, cioè o, non o. Mettiamo che tu voglia vedere bene la pronuncia corretta delle vocali, allora ti suggerisco di vedere invece questo video qui. Germoglio e non germoglio, o germoglio. Quando si parla in cadenza, l'accento di solito viene spostato da un'altra parte o magari anche aggiunto in altre parti, in questo caso noi stiamo vedendo le sillabe appunto come vi ho appena fatto vedere. A questo punto potrebbe scattare la domanda ma chi dice germoglio? L'accento sulle sillabe o parole finali per esempio è una caratteristica della parlata verita. Ho detto parole, ho aggiunto parole perché la stessa cosa che abbiamo visto con le sillabe di germoglio possiamo vederla anche nella gestione della sonorità della frase intera, cioè del suo ritmo e della sua intonazione. Avete presente quella sonorità che si sente, no, del dialetto? In una parlata neutra io posso far emergere il significato di quello che sto dicendo, cioè il senso, il colore, la rilevanza di quello che voglio comunicare e quindi anche tutte le sfumature emotive. Le sfumature emotive sono dei suoni. Come lo faccio? Strutturando il ritmo e l'intonazione delle frasi in modo preciso. Se vuoi avere un'idea di questa cosa qui ho fatto l'analisi del monologo ogni maledetta domenica proprio partendo da queste basi. Studiando quindi la struttura della frase, la ritmica e l'intonazione. La struttura, intendo anche proprio tutto il significato che dovrebbero avere per me, posso far emergere anche il mio brand. Chi sono? Cosa faccio? In cosa credo? Semplicemente dal suono che riesco a far uscire dalla mia bocca, perché questo suono acquisisce un'identità. Quando parlo in cadenza invece tutto questo si potrebbe venire a perdere, perché il suono che andrò a produrre sarà in gran parte legato a quello che vi dicevo prima, al mio dialetto. Nel caso del Veneto notiamo come l'accento sia preponderante sulle sillabe finali delle frasi. Questo è un esempio. Anche quando vado in Spagna inserisco anche un po' di dialetto veneto, hai capito? Il primo lavoro da fare quindi sarebbe quello di eliminare la sonorità tipica che limita o potrebbe limitare la nostra espressività primariamente alla cadenza, come ho appena detto. Per farlo inizialmente l'aiuto di un professionista come me è molto utile, perché così si possono acquisire in modo semplice le strategie per arrivare velocemente a una parlata neutra e poi perché un professionista ti va da specchio e ti dice dove stai sbagliando. Quindi primo esercizio suggerito è quello di registrarsi e cercare questi pattern sonori che corrisponderanno alla vostra cadenza personale. Poi da lì cercare di ripetere le stesse frasi in altri modi. Per esempio, io posso sempre sottolineare le stesse parole ma in modo diverso. Anche quando vado in Spagna inserisco un po' di dialetto veneto. Oppure posso provare in maniera lineare, che questo è un esercizio classico per la cadenza, no? Anche quando vado in Spagna inserisco un po' di dialetto veneto. Quindi ripeto, l'esercizio è quello di registrarsi, riconoscere se ci sono dei pattern sonori, prendere quelle determinate frasi in cui questi pattern escono e provare a ripeterle facendo delle altre, sonorità. Quindi dando più rilevanza ad altre parole, se l'accento cade sempre nelle ultime sillabe e ultime parole, come accade con il dialetto veneto, allora io cerco di spostare questo accento nelle ultime sillabe, nelle ultime parole anche in altre parti della frase. Questo è il primo esercizio. Veniamo ora invece alla gestione delle doppie. Altro argomento rilevante quando si parla di cadenza veneta è quello della gestione delle doppie, perché la maggior parte delle volte le doppie non vengono pronunciate, quindi sarebbe utile fare esercizi dove io vado a rafforzare questo uso delle doppie, tipo questi. e così via con tutte le consonanti dell'alfabeto, io posso anche cambiare le vocali. se c'è una cosa che funziona e che ti farà aggiungere dei risultati in queste materie edizione fonetica è la ripetizione. Devo ripetere per far diventare automatica delle cose che non lo sono. più ripeto, più aumento la possibilità di aggiungere alla mia parlata normale, magari in cadenza, anche quella neutra. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Scrivi qua sotto se anche tu sei della stessa zona d'Italia e se vuoi scrivi una frase nel tuo dialetto veneto, mi farebbe molto piacere leggerla. Ci rivediamo la prossima settimana col prossimo video dedicato al video public speaking. Rinnovo l'invito ad iscriverti al canale, a spuntare la campanella, a prendere contatti con me, se vuoi iniziare a lavorare sulla tua cadenza dialettale. Grazie per aver guardato questo video, a un certo punto qualcosa cambia. Buona settimana! Stiamo bene, sono di casa. Statemi bene, salutate a casa.